Caterina, quasi sempre la migliore in campo sia l'altro ieri che stasera, un esordio mondiale così, tanta roba come si dice. Stasera in molte situazioni le mie compagne sono state molto più brave di me, però è solo l'inizio del mondiale, stiamo crescendo piano piano partita dopo partita e sicuramente questa partita è stata perfetta per iniziare a ingranare veramente l'atmosfera e tutto il resto che comunque ci sta dando questo mondiale. Quella disattenzione sul gol del 3-1, ce la racconti? Oltre all'emozione, diciamo che per me, come hai detto prima, è un esordio, non voglio trovare alibi, però per fortuna c'è stata questa partita perché davvero sono riuscita a ingranare e a capire realmente cos'è l'Italia maggiore e cos'è giocare ad alto livello. Ecco, che emozioni, che sensazioni ti dà giocare in un campionato del mondo? Eh, diciamo ancora devo cercare di realizzare per bene, però credo che piano piano ci abitueremo e insieme con tutte le altre mie compagne e arriveremo fino in fondo. Grazie.